Chiusura in forte calo oggi per la Borsa di Milano, per la seconda seduta consecutiva, insieme alle consolelle europee e sullo sci di Wall Street, che è aperto in rosso sull'onda delle preoccupazioni per l'economia globale. A favorire le vendite sono state, tra l'altro, notizie dalla Cina, dove sono stati ristretti i criteri per i collaterali sui prestiti a breve termine, e dalla Grecia, dove il primo ministro Samaras ha convocato elezioni presidenziali anticipate. In piazza affari, dopo i forti rialzi di venerdì scorso e il ritracciamento di ieri, l'indice guida Fuzzi Mib ha chiuso in calo del 2,8%. In calo anche le altre piazze europee, in particolare Madrid, che lascia sul parterre il 3,2%, con la piccola Borsa di Atene, dove l'indice generale c'è del 12,78%. A Wall Street il Dow Jones perde più dell'1%. In piazza affari le vendite sono generalizzate, ma particolarmente concentrate su utilities, commercio al dettaglio, auto e banche. In netta controtendenza Mediaset sul Fuzzi Mib, che guadagna il 2,8%, dopo i dati sulla raccolta pubblicitaria di novembre.